Amici buongiorno, ore 7, ecco il protagonista della nostra giornata sarà una giornata intensissima per il forno signori imbrasato e cotto, eccoci al sugo uno spettacolo il roast beef è pronto, eccolo qua signori siamo alle battute finali questo è l'ultimo sacrificio che dovrà fare il nostro forno stamattina tra poco vi dico cos'è questi sono i nostri funghi una quantità enorme dovranno farcire salsicce, polpettoni e tantissime altre cose signori ci siamo quasi signori pronti per i saluti allora roast beef? fatto rasato con pomodoro rosso? fatto arista di agrumi? fatto funghi champignon? fatto il nostro piccolo miracolo è già avvenuto eccola la, già sta qua da un quarto d'ora incredibile ma vero incredibile ma vero messagenare messagenare oggi è aperti mezza giornata signori il video di oggi lo chiudo con un magico sunset da citara un bacio a tutti a tutti